Grazie Ma io anche vorrei cogliere un momento anche di attenzione perché se Matteo, maestro a guerra, suona la fisarmonica bisogna ricordare il grande altro maestro della nostra terra l'indimenticato Peppino Principe Questo piano lo volevo veramente indicare a tutta la famiglia Principe e a tutti coloro che amano questo strumento che è la fisarmonica Grazie 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 Mangano Music Il tuo matrimonio a ritmo di musica Seguiteci su www.matrimonio.com adessosposami.it e su tutti i social